Claudio Toni, che effetto fa a ritornare qui allo stadio a Piani dopo che è stato ristrutturato la tribuna e che è stato messo a posto? Beh, sicuramente mi riporta dietro tanti anni, in questo stadio abbiamo fatto tante partite, tanti incontri importanti, bei ricordi, partite che sono passate la storia, soprattutto quella in Padova-Barletta che finì 4-3. Ottimi ricordi, ricordo che la gente era sicuramente il dodicesimo uomo in campo, ci sosteneva, ci spingeva sempre, ci fa tornare dietro del tempo e purtroppo gli anni passano, sono contento di questa nuova iniziativa che hanno ristrutturato la tribuna e credo che anche per il tifoso Patovano rivedere la Piani in questo stato sicuramente farà piacere. Ecco, tra le foto, le gigantografie c'è anche una sua che ricorda la premiazione per le 100 presenze appunto con la maglia bianco scudata. Sì, è un vecchio presidente Pugina, anche lì ricordo perfettamente quella giornata prima di una partita in casa appunto, davanti ai propri tifosi penso che sia stato il massimo. Un bel ricordo, raggiungere 100 presenze, poi vabbè dopo ne ho fatte tante altre ancora, però un ottimo traguardo. Grazie. Grazie. Grazie.